Cambia sia nella forma che nella sostanza. È il nuovo portale turismo della regione Abruzzo, già online e operativo. Più contenuti, più informazioni e una migliore organizzazione della presentazione dell'offerta turistica regionale, mare, montagna, arte, cultura ed enogastronomia in vetrina per cercare di migliorare l'attrattività del territorio. Il nuovo portale web è un tassello del processo di re-ingegnerizzazione dell'ecosistema digitale di promozione ed accoglienza turistica. Tra le novità, lo scambio di dati e di flusso di informazioni provenienti dal DMS, il Destination Management System e la piattaforma di prenotazione e delle esperienze da vivere durante la propria vacanza. Beh, sì, quello che qualcuno ha lanciato qualche giorno fa sulla stampa, lo Schipass, no. In realtà è già nel sito, nel senso che tramite il sito dell'Abruzzo si può prenotare tutto. Cioè, dalla Germania, dico Germania perché noi abbiamo come prima nazione di turismo che viene dall'estero, la Germania, uno può prenotare tutta la sua vacanza, dall'albergo, al ristorante, al museo, alla montagna se vuole andare a sciare. Quindi tramite il sito abbiamo creato praticamente la possibilità di gestione di tutta una vacanza senza dover poi preoccuparsi di file, di altre cose che penso che sia un buon servizio dato al turista.